Volevo comunicarvi che alcuni minuti fa mi è stata data la notizia che dall'ospedale San Giovanni di Dio di Grigento si è registrato un caso di positività al coronavirus, al Covid-19. Si tratta di un paziente che non è residente nella nostra città, che non è residente all'Agrigento, e di un comune vicino, e ho avuto rassicurazioni dalla dirigenza dell'ASP e dello stesso San Giovanni di Dio che si stanno mettendo in campo tutte le procedure previste nei protocolli sanitari per realizzare tutte le forme di isolamento che sono previste in queste fasi. Avremmo voluto non avere vicende di questo tipo, ma nel contesto è evidente che non era una notizia che poteva risultare improbabile. La certezza è che la Direzione Sanitaria sta svolgendo tutto quanto necessario per garantire il rispetto dei protocolli.